Padre Maurizio Botto Beh, innanzitutto questo incontro già da questa mattina mi ha messo particolarmente di buon amore, quindi sono molto contento, poi questa cosa Mario non vuole che la dico, però io la dico lo stesso, mi interessa, cioè il fatto che io proprio a Mario li voglio bene, perché anche noi, anche noi ma li voglio bene una persona, ma li voglio bene una persona, ma li voglio bene una persona ma li voglio bene una persona, ma li voglio bene una persona, ma non da un punto di vista solo affettivo, ma proprio con questo senso dell'amicizia, perché quando lo conobi ormai un po' di anni fa, dai famosi amici ben pensanti mi fu detto, attenzione, perché Mario di Nolfi ti userà, perché è un politico, perché qui è bene, i veri politici erano quelli che me lo dicevano, e io da lui non sono mai stati usati, ma non sono mai stati usati, bravo, 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 bravo. Non dirci i cristiani, lui la volta il positivo dicendo perché possiamo solo dirci i cristiani, solo che io non vorrei usare un'espressione romana sul dito, cioè sull'essere fastidioso, ecco, comunque, quando papà non hanno capito le dico poi, comunque, non vorrei essere fastidioso come un dito, ecco, in una parte anatomica, ma... Anatomico, 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 ora, ora, il problema per me è proprio cristiano, perché per me il cristiano è sinonimo di intelligente, per dovrebbe... no, calma, bravo, aspetta, dovrebbe essere sinonimo cristiano di intelligente, cioè io ho un sogno, ho un grande sogno, mi dirò alla fine come io mi immagino oggi in questo mondo moderno i cristiani. Per spiegare che cosa un cristiano non può essere, farò un esempio autobiografico e particolarmente doloroso, del quale mi perdonete. Qualche settimana fa è avvenuto un avvenimento tristemente abituale. Il Torino ha perso il 3-0 il derby contro i pigiami. Ora, ma la cosa bella è che, scusate la divagazione, abbiamo fatto tutto noi, cioè ci abbiamo pensato tutto noi da soli. Io ero in matrimonio di mia sorella, sto cugino, continuavo a dare le notizie. Per prima cosa, l'allenatore ha messo in campo una squadra con lo stesso modulo della Juventus, si chiama modulo a specchio, che significa che esalta i confronti individuali. Penso che costanza questo concetto poi arriva in tutto. Quindi, praticamente, il giocatore X della Juventus contro il giocatore X del Torino non è lo stesso ruolo. Capite anche voi, stiamo parlando di un massacro, quindi questa è la prima cosa. Ma il colpo di genio, vero, è stato al ventesimo del primo tempo, quando il nostro Daniele Baselli ha perso la testa facendo un fallo follemente inutile. Machiavelli, bisogna sapere che Machiavelli non è cristiano, Machiavelli non pensa secondo la dottrina sociale della chiesa, cioè quindi, io però calcisticamente ogni tanto Machiavelli dico, vuoi fare un fallo? Fallo risolutivo, io rovigno la carriera, al giocatore è il principale. Invece Daniele Baselli ha fatto un fallo esattamente come quelli del wrestling, un fallo dove non si fanno male, un fallo assolutamente e totalmente inutile. E quindi l'arbitro non ha potuto fare altro che sbatterlo fuori al ventesimo del primo tempo, quindi modello a specchio e al ventesimo del primo tempo in dieci. Le sue parole, alla fine della partita, mi sembrano quelle di tanti cattolici. Mi ha fregato la troppa voglia di fare questo derby. Cioè ci teneva tanto da aver perso la testa e l'allenatore è stato presuntuoso e anziché cambiare modulo e mettere un modulo diverso per mettere in difficoltà, io penso non l'ha fatto. Cioè secondo me uno dei problemi principali dei cattolici è l'assenza di realismo e l'assenza di intelligenza su tante questioni. O capiamo o moriamo. Mario nel libro lucidamente, e questo è l'argomento mio, individua due estremi di una tenaglia, di una tenaglia che ci vuole schiacciare, l'Islam e il nichilismo. L'Islam. Allora il problema islamico va affrontato cristianamente alla radice, cioè con l'utilizzo della testa. Cioè il problema islamico non lo vinci di pancia, lo vinci di testa. Ora, se tu affronti il problema islamico di testa e non di pancia, devi andare a capire qual è la fonte e l'origine del problema. Quindi non puoi fare a meno di andare al discorso di Raffiesbona, di Benedetto XVI del 12 settembre 2006. È fondamentale. Praticamente, facendola breve, si parla a un certo punto di questo dialogo tra un dottor imperatore bizantino, quindi cristiano, e un uomo colto persiano, quindi islamico. Il confronto è tra di loro. E all'interno di, a un certo punto, in uno di questi dibattiti, in questi, diciamo, di confronti, sui vari punti, in modo sorprendentemente brusco, dice il Papa Benedetto, brusco al punto da essere per noi inaccettabile, vedete, questo è quello che ha detto veramente il Papa, si rivolge al suo interlocutore semplicemente con la domanda centrale sul rapporto tra religione e violenza in genere. Cioè, il tema che affrontano questo imperatore e questo dottor persiano islamico è quello della sharia, cioè della violenza, della possibilità di imporre la fede con la violenza. Dice così il cristiano, l'imperatore bizantino, mostrami plure ciò che a momento ha portato di nuovo e ritroverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava. L'imperatore, dopo essersi pronunciato in modo così pesante, spiega poi minuziosamente le ragioni per cui la diffusione della fede, mediante la violenza, è irragionevole. La violenza, dice l'imperatore, è il contrasto con la natura di Dio e la natura della stessa anima umana. Dio non si compiace del sangue, non agire contro ragione, è contrario alla natura di Dio. Cioè agire contro la ragione e agire contro la natura di Dio. Questo è il punto intellettuale e di fede al cuore del rapporto con l'Islam. L'affermazione decisiva, avanti Papa, in questa argomentazione contro la conversione mediante la violenza, è non agire e che il non agire, secondo ragione, è contrario alla natura di Dio. Per l'imperatore, come bizantino, cresciuto nella filosofia greca, questa affermazione è evidente. Per la dottrina musulmana, e questo è il punto, invece Dio è assolutamente trascendente. La sua volontà non è legata a nessuna delle nostre categorie, forse anche quella della ragionevolezza. quindi, concludendo, che un musulmano pensa che Dio è così trascendente che può, non c'è nessuno, nemmeno la categoria di ragionevolezza lo può contenere. Quindi non c'è continuità tra la nostra ragione e la ragione e il pensiero di Dio. Questo è il punto intellettuale dove l'Islam, lo dico chiaramente, è destinato miseramente a fallire. miseramente. Facendo tanti morti, probabilmente, forse, chissà, questo non lo possiamo sapere, però sicuramente, se noi cristiani, con l'Islam ragioniamo di pancia, se tu ragioni di testa, sei tranquillo, hai la situazione sotto controllo, non ti fanno paura. Io non ho paura dell'Islam, non ho paura dell'Islam, forse è bene specificare, perché all'interno dell'Islam, gli Islam radicali, cioè di quelli che io chiamo ortodossi, cioè quelli che credono veramente a quello che è indicato nel Corano, sono una minima parte. Gli altri sono persone che hanno una religiosità naturale, che vivono nella forma dell'Islam. Non so se questa cosa si spiega, è abbastanza chiara. Ma il punto e la ragione, infatti, quando noi parliamo del Corano, il Corano è un testo che è considerato per un musulmano della stessa natura di Dio. È stato donato direttamente dal cielo a un monumento, scritto in lettere di fuoco, che sono state semplicemente in arabo, e questo è il testo. Questo deve credere un musulmano, cioè il Corano non è neanche veramente traducibile e non è interpretabile. È un concetto completamente diverso. Quando dicono che noi siamo la religione del libro è completamente, dal punto di vista intellettuale, diverso, perché per noi la parola di Dio è teandrica, cioè è umana e divina. Noi possiamo anche studiare l'aspetto umano di composizione. Ci sono dei compositori umani, un tempo sparico di composizione, generi letterari, e dentro questa intelligenza umana Dio ha ispirato. Quindi è umana e divina. Mentre nel caso del Corano si crede in una rivelazione diretta. Ecco perché non è interpretabile. Assolutamente. E di questa cosa bisogna saperla, bisogna ragionare. I musulmani, ortodossi diciamo, hanno una paura fottuta. Perché quando gli studiosi, col metodo scientifico, che è stato applicato in modo totale e ossessivo negli ultimi secoli sulla parola di Dio, nella nostra Bibbia, è stato applicato in modo fortissimo, quando gli studiosi vorrebbero applicare lo stesso metodo storico-critico al Corano, questi non possono farlo. Non lo possono fare. Ed è questo che noi dovremmo dire. Applicate il metodo storico-critico al Corano. Vedrete che è un'operazione culturale dove si vede chiaramente che Mauro Mento ha preso dalle fonti bibliche, ha preso dal Vangelo, ha preso tanti... e ha fatto una sintesi culturale, intelligente, probabilmente sì. Comunque, non certamente quella derivazione diretta divina che pretenderebbe di avere. Si può capire testualmente e scientificamente di questo. Alcuni hanno paura. Noi non possiamo avere paura. Basta semplicemente sapere di queste cose e non avere paura della verità. Questo è importante, molto importante. E questo è il punto di vittoria con l'Islam, non con la pancia, con la testa, con la testa vinci, con la pancia perdi. Ad esempio, un'altra cosa che bisognerebbe dire sull'Islam è che c'è una negazione storica della croce, della morte in croce di Gesù, mentre i reperti, diciamo, c'è lo studio storico-scientifico di come avveniva un crocifisso e i dati indicati nel Vangelo coincidono perfettamente. Cioè, è scientificamente esatto il modo con cui è descritta la croce. Quindi, quando tu vuoi parlare della croce, non è qualcosa che può essere o non essere. È avvenuta ed è avvenuta così. Un altro elemento importante. Posso dirvi una cosa che probabilmente mi trovo come un sassolino dalla scappa, però questo è un altro punto importante. Perché non ce lo diciamo mai, perché ci dà fastidio. Io mi sogno, un sogno, è la dream, dei cristiani che rispetto all'Islam sono uomini, donne, così liberi che attraverso la pria e i sacramenti hanno una caratteristica, sono capaci di accontentarsi e quindi sono forti perché possono vivere anche a pane e cipolle. E mi potete dire ma cosa c'entra questo con l'Islam? Cosa c'entra? L'unico vero competitor di Dio, parola di Gesù, è un idolo che si chiama Mammona. Se i cristiani non sono degli uomini liberi, cioè non si accontentano, non sono disposti a mangiare pane e cipolle e questo lo può fare solo uno che ha una vera fede, ci compreranno. Questo sta avvenendo. È scritto in quello che dice Mario. I cristiani me li immagino come un lieto per la pasta, come una luce per le tenebre, come una rete che salva, uomini intelligentissimi e erotici, non comprabili, non comprabili, liberi perché non sono seducibili con gli assegni. Se tu sei seduto, se ti può, a te, a te, a te che sei qui, se sei seducibile da un assegno, tu non sei cristiano. Devi fare incontri con questo, con questa parola di Gesù Cristo, se un cristiano può essere seduto da un assegno, cioè cambia idea in funzione dei soldi, non è cristiano. Non basta dire cristiano, non basta manco per niente. Cioè i cristiani sono un lievito, sono quel pugno di uomini e di donne che tengono talmente a Cristo e al cielo che non sono comprabili, si capisce? Sì, è abbastanza complessivo. E questo è un nostro problema. Dovremmo essere sinceri che noi abbiamo un problema su questo punto. Siamo Machiavelli, siamo Machiavelli, eh, va bene, il fine giustifica, è un gatto, è un gatto, è un gatto. Dicevo, io ho un gatto, io ho un gatto, questa volta mi fa proprio, cioè, questa volta mi butta giù, qua tutto, mi è arrivato un'email, allora, abbiamo visto il progetto dei film, dei cose, no, non so che sembra impossibile da crederci, ho ricevuto un email in cui una persona mi faceva notare che tra i film consigliati avevo messo il favoloso mondo di email, chi non l'ha visto, ma chi l'ha visto? Volevo fargli notare, padre, che a minuto 1,41 del video che lei ha messo, c'è una scena in cui la protagione, c'è una copola e mi mette il documento, eccetera, io dico, Carlo, che cosa ho fatto? Quello film lì, tra l'altro, se c'è un film pulito, un film lì dove, è molto molto poetico, è stupefacente, perché in un mondo sessuomane, un film così, che è ancora una caratteristica romantica, è piaciuto da macchia alle donne, forse questo vuol dire qualcosa che questa mentalità maschilista trasmette, non è forse l'immaginario della donna, vabbè, comunque, ma se c'è un film proprio che, perché in quella scena lì c'è la protagonista che a questa faccia così proprio è assente, cioè fa tutto il protagonista maschile che è tutto concentrato e lei è così, eccetera, è ridicola, è ironica, fa ridere, è in un contesto che fa ridere, non è una scena che suscita niente, non è un film erotico, oltre il fatto che non ridono anche i bambini, meno male, perché i bambini hanno un senso dell'ironia molto acuto a differenza degli adulti, cioè il problema dei cattolici c'è un problema con l'ironia, allora l'ironia non è né il sarcasmo, cioè che ha una svelatura di disprezzo, l'ironia è una cosa di gente per bene, cioè è un sorriso, un bonario dove tu puoi anche avere bontà rispetto a quello che fa la cosa, eppure l'unica arma contro il secondo tenaglia all'estremo, quindi il primo aglisma che non ha ragione, la seconda è una forma particolare di intelligenza, ancora in questo caso, che è l'ironia, e qua noi dobbiamo veramente, chi non ce l'ha deve nutrirsi dai nostri campioni, noi abbiamo i campioni di ironia che bisogna frequentare obbligatoriamente per sperare di venirne un pochettino contagiati, questo è il concetto, penso a Guareschi in tutte le sere, mi legurra, continuo di Don Camillo, vado a letto più sereno, perché veramente sono in crisi di ironia e di buonsenso e di intelligenza e di un uomo coraggioso, diceva a un certo punto che l'unica via che a un certo punto un uomo per bene può percorrere è quella che porta direttamente al carcere, cioè uno per conservarsi, un uomo da bene a un certo punto deve avere la libertà interiore, io questo insieme ai miei ragazzi direi, ma ragazzi non è che noi dobbiamo essere necessariamente dei buoni cittadini, può capitare un giorno che per essere santi dovremmo essere cattivi cittadini, quindi ci rimane una via sola da percorrere quella di andare a caccia, ci andiamo tranquillamente, io ogni tanto ci penso, magari mi sbattessero dentro un po' di tranquillità, nessuno che, purtroppo ci è concordato finché dura che abbiamo gli arresti domiciliari, però comunque me ne starei in casa, io sono agli arresti, scusate, puoi venire a Cervi, non posso venire, puoi venire, non devo stare in casa, mi spiace, che dolore, mi spiacevo, mi starei nella mia cameretta, poi credo che domiciliari in Italia se vado a prendermi un caffè bar nessuno se ne accorge, tranquillo, ma chi mi ammazza? ma io le dico, mamma, 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 se andassi in carcere, non mi diceva così tanto, non è moglie, non è che, non è più di un carcere, se non è una cosa grave, se non ho fatto male a nessuno, ma per un'idea, per un'idea, io sarei felice di andare in carcere, per un'idea, cioè magari arrivassimo, Guareschi, Guareschi è uno che è andato in carcere per le sue idee, Lewis, Lettere di Berlì, che è un altro, ma penso a Tolkien, Tolkien è ironico, simpatico, gli hobbits, sono l'incarnazione di quello che è, e, trasconde speranza, un libro intriso di speranza, il Signore degli Anelli, anche se, non parla mai di Gesù, di Madonna, eccetera, è il libro più cattolico, che io conosco, proprio c'è là dentro, scritto dentro, ma poi un altro, un campione meraviglioso, che purtroppo c'è stato il Cardinal Biffi, il Cardinal Biffi è un balsamo per l'anima, ma leggete, il Cardinal Biffi è un genio, è acuto, è simpatico, è ironico, questo quinto Vangelo che lui ha scritto, è da pisciarsi, da ridere, perché descrive ancora oggi, dei problemi, che continuano ad esserci, all'interno della Chiesa Cattolica, ma in particolare, c'è un autore, che a livello grande, nemico del nichilismo, ed è Chesterton, allora, Chesterton ha un problema, nel senso che devi essere molto umile, per leggere, è talmente intelligente, che tu cominci a leggerlo, e non ci capisci la mazza, direi che la pagina, poi a un certo punto, è come andare in una miniera, capito, tu entri dentro, sta miniera, è così, e entri dentro la miniera, e dici, ma è buio, che buio, è buio, poi a un certo punto, bam, trovi la pagina, la pagina solo, che capisci qualcosa, capisci tutto, e sei felice, e soprattutto, una roba nutriente, cioè, Chesterton, ti riempie la mente, e tu continui coslosamente, a masticare, quelle idee geniali, che lui ha detto, in un modo, corto, simpatico, e geniale, cioè, i libri di Chesterton, sono leggere un po' per volta, due o tre pagine per volta, e poi fermarsi lì, e poi, perché troppo, è troppo denso, è troppa roba, tutti lo capiscono, il problema è che ci vuole, qualche estrattore, c'è qualcuno che ti tiri fuori, da Chesterton, e io ho provato a fare l'estrattore per voi, sentite questo, il Giacobino, potrebbe dirvi, non solo il sistema, contro il quale si ribellerebbe, ma, cosa più importante, il sistema, contro il quale, non si ribellerebbe, il Giacobino classico, ma il nuovo ribelle, adesso chiudete gli occhi, e pensate, a quale partito sto parlando, ma il nuovo ribelle, è uno scettico, e non avrà fiducia completa, in niente, non ha senso di fedeltà, pertanto, non potrà mai essere, un vero rivoluzionario, e il fatto, che dubiti di ogni cosa, gli è di intrancio, quando vuole denunciare, una qualsiasi cosa, poiché ogni denuncia, implica una dottrina morale, di qualche genere, e il rivoluzionario moderno, dubita non solo, dell'istituzione che denuncia, ma della dottrina, in base alla quale la denuncia, capite di questo, penso, ma, è corroborante, corroborante, una parola italiana, che significa, che mi da forza, c'è la roba, le parole sono belle, non a me, vivo l'Italia, comunque, vivo l'Italia, che bravo, l'adorazione della volontà, l'adorazione della volontà, cioè oggi c'è l'adorazione della volontà, c'è il fatto di poter scegliere, la volontà, l'adorazione della volontà, è la negazione della volontà, ammirare la semplice scelta, significa, rifiutare di scegliere, non si può ammirare la volontà, in generale, perché l'essenza della volontà, è quella di essere particolare, cioè di scegliere, ogni atto di volontà, è un atto di autolimitazione, desiderare un'azione, è desiderare una limitazione, in questo senso, ogni azione, è un atto di sacrificio di sé, quando si sceglie qualcosa, si rifiuta tutto il resto, l'obiezione, che gli esponenti, in questa scuola, muovevano all'atto di sposarsi, è in realtà, un'obiezione a ogni azione, qua lui fa degli esempi, alcuni sono meravigliosi, se si diventa re d'Inghilterra, si rinuncia al posto di sacristano, di pronto, se si va a Roma, si sacrifica una vita ricca, e suggestiva a Wimbledon, è l'esistenza di questo lato negativo, o limitante, che fa sì, che le chiacchiere degli anarchici, adoratori della volontà, siano poco più che sciocchezze, andiamo avanti, se, alla propria maniera, qua dice, è impossibile essere un artista, e non curarsi delle leggi e dei limiti, l'arte è limitazione, l'essenza di ogni quadro è la cornice, quando si disegna una giraffa, questa va disegnata con un collo lungo, se alla propria maniera audace e creativa, uno si sente libero di disegnare una giraffa col collo corto, si capirà che in realtà non si è libero di disegnare una giraffa, nel momento in cui si mette piede nel mondo dei fatti, si entra nel mondo dei limiti, volendo si può liberare una tigre dalle sbarre della gabbia, ma non la si può liberare dalle sue striature, non liberate il cammello dal peso della sua gobba, potreste liberarlo dall'essere un cammello, non andate in giro come dei demagoghi, incoraggiando i triangoli a scappare dalla prigione dei loro tre lati, se un triangolo scappa dai suoi tre lati, la sua vita giunge a un termine doloroso. Allora, ultima cosa, un minuto, l'ironia, questa gente la vincitola l'ironia, e per avere l'ironia vuol dire che devi pensare, per pensare devi necessariamente essere in silenzio anche, devi spegnere quegli agenzi, devi riuscire a avere tempi di silenzio, forse anche andare a correre, ma un tempo in cui sei in silenzio mentalmente. Infine, cristiano, quindi un cristiano è un ironico, un intelligente, o un sogno, il cristiano è uno che spera. Un cristiano è uno che combatte una battaglia spirituale interiore, non è mai vinto dalla tristezza, è attaccato dalla tristezza, ma è un combattente che non conosce l'arrendersi. Non è vinto mai dall'ira o dall'ivore, ha moti di ira e moti di livore, ma non è mai vinto dall'ira o dal livore. In questi tempi così oscuri abbiamo bisogno di uomini oranti e pensanti, uomini fecondi, uomini capaci di sorridere, sorgnoni, e di mostrare la vicinanza tra la follia e il pensiero moderno con arguzia. Sempre certo che Don Diccia dice una vicinanza incredibile tra il pensiero moderno e la follia, perché il folle non è un immaginativo, il folle è un logico. Per non è che è chiuso dentro il suo quadratino, e se tu entri dentro il suo quadratino, ha ragione lui. I pazzi ti chiudono dentro il quadratino e ti dimostrano che hanno ragione a loro. Ti convincono della loro follia se stai lì dentro. L'unico modo è il senso del paradosso, dell'immunia far cogliere che tu esci dal quadratino, dal quadricino non ci stai dentro. E allora così puoi permetterti di sorridere. Io sono dei cristiani che sperino veramente, quindi hanno talmente speranza nel cielo, nella vita eterna, non sono riducibili, perché hanno un senso dell'amicizia che è più importante del senso dell'opportunità o della politicamente corretta. E hanno un senso che sono disposti a non essere comprati perché possono mangiare pane e cipolle. Credono veramente, simpaticamente, nella vita eterna e sono troppo intelligenti. Quindi mi immagino i cristiani pieni di speranza, sorridenti, amanti dell'amicizia, che ballano, che cantano, che hanno quella raguzia che li permette di sorridere. Ma sì, hanno questi pensieri, ma sì, vincono con l'intelligenza acuta di un ironico e con la fede acuta di un santo. Grazie. Applausi. 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 Grazie.